Ah ragazzi cosa c'è di meglio che fare un bel video registrato insieme a voi Allora ragazzi come detto nella intro oggi faremo una challenge molto molto particolare Quindi faremo la loot swap challenge Questa challenge ogni volta che ucciderò un avversario dovrò prendere il suo loot e utilizzare quello Quello che dovremmo assolutamente fare dato la vicinanza del bus della battaglia è andare a Montecile Comunque il primo loot posso loottarlo tranquillamente dalle casse quindi prendiamo tranquillamente tutto quello che trovo E poi iniziamo a pensare a chi pushare Allora ho visto un player lì, mi fullo con calma Guarda quanto sono forte lo spiderman Ora capisco perché in competitivo toglieranno da 80 utilizzi e ne metteranno solo 20 Oh mio dio che rischio, come avete visto? Sono quasi morto Bravo Chris, fuga tattica Ah Devo fare cambio loot Mamma mia raga Gli ho fatto un no scoop strepitoso Madonna Non mi uscirà mai più una clip così perfetta raga Param 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 Paraparaparaparaparaparaparaparapapam Guarda che loot Non ho preso neanche un'arma Bro Cosa stai facendo? E abbandoniamo di spiderman Uffa Tempo di prenderci di nuovo nel nostro camionetta E andare a caccia di altri nemici Finora sta andando molto bene Finora Però mancano 23 persone Mi hanno dato una R orribile raga Mi hanno dato la R più brutta del mondo Dentro in safe zone Allora per andare in safe Torniamo indietro Usiamo il ponte rosso E dal ponte rosso ci spostiamo giù da Con i crossroads Ehm Shish Questa raga è una god macchina Non ho un limite su questo Aiaiaiaiaiai È stato uno sbaglio È stato uno sbaglio È stato uno sbaglio Aspetta Gli ho fatto male Via 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 76 E via Ok ok Siamo in safe zone Ho rischiato tantissimo E me ne rendo conto Aspetta Forse ne vedo uno Dai 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 Ehi C'ero quasi Facciamolo arrabbiare Pensavo avesse più vita la mia macchina Lo ammetto Ah questa swap challenge E' abbastanza difficile Ovviamente c'è uno spiderman che deve scendere qua con me Oddio Ha preso tutto lui Scendiamo Beh Ehm Sono messo malissimo Fuga tattica Fuga tattica perché ho droppato malissimo E devo assolutamente trovare delle armi Senza armi raga non si può fare nulla C'ho solo un'arma Oh c'è clombo Un cecchino viola Ehi Sì 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 Ma non me lo rubare Non me lo rubare Non me lo rubare Tieni Te lo regalo Mangiatelo Cecchino 95 Qualcuno mi dia delle mani Per favore Quello si è tirato un sacco di splash Niente 95 95 di nuovo L'ho craccato quello in fondo Non vuole morire E' incredibile Sto trovando solo player qua Quello si è blindato lì 95 Oh tutti 95 Incredibile Raga come faccio fuori qualcuno qua Me lo da fortissimo Sappiatelo Devo cambiare macchina Perché questa macchina fa caccare Dai dai Sparatemi un po' Oddio Scherzavo 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 Anche gli spiderman Cioè tutti stanno gioinando sto fight raga Ho bisogno di prendere un'angolazione giusta E farmi la kill Ostia Ho pochi colpi del cecchino Non mi entra una kill Non mi entra una kill Sono riuscito a mancarlo Inseguo lo spiderman raga E' l'unica cosa da fare Fatima ammazzare un po' E' l'unica cosa da fare Beh Ho finito i colpi R La cosa non mi piace La cosa non mi piace per niente Comunque sto trovando una partita con solo giocatori Io lo sto facendo una fatica boia Per provare a vincere sta partita Perché trovo solo giocatori E non ho ancora i colpi a R Ho sentito un player Ok Ho sentito un player E l'ho sentito anche bene Quello è un player Ho sentito uno qua sotto Ehi Ehi Guarda chi c'è laggiù Nooo Stavo per fare la cecchinata di Cristo Ma quello è fermo Dai L'hanno ucciso Non voglio finire Con una sola kill Mi sono rimasti 14 raga La partita di prima Ho fatto tipo 4 swap Adesso Stavo avendo difficoltà A trovare dei player Senza mani Eccolo qua sotto Appena si ferma Li tiro una craniata Col cecchino Minchia Se lo colpissi adesso Col danno a caduta Mi farei una super kill Però non posso rischiare Devo Cambiare spot Vado in cima alla montagna raga Non ho molte scelte Ma È l'unica cosa che mi rimane a fare Andare lassù in cima Si è chiusa nella casa Qui c'è un altro player Non ho molte scelte raga Vediamo se sono riuscito A buttarlo giù Ok Si stanno per battagliare Grande Chris Questa è Strategia pura Da Napoleone Lascia che si fai Dono i due team Fatevi del male Che palle Era collegato tutto Niente Mi ha visto Evacuare 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 Brum brum Scooteroni Ah Ok 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 Uff No Quanto a vita gli è rimasto Ragazzi c'eravamo quasi Ma proprio quasi vicini vicini così Comunque vi invito a lasciare un bel like Un commento e soprattutto scrivetemi Se avete in mente altre challenge particolari A fare all'interno di Fortnite Mi raccomando usate il codice creatore Tizio20 Tutti i giorni bene o male sono in live su Twitch Quindi seguitemi anche lì e su Instagram Che cosa buona è giù Vi saluto ci vediamo un prossimo video Ciao a tutti